piccolo video breve quello di stasera ragazzi per informarvi che domani farò la canzoncina del celbero podcast ovviamente corretta e ho cancellato i due video che ho realizzato anche perché non andavano bene domani ripeto farò la canzoncina la canterò bene cercando di non sbagliare e soprattutto cercando di strapparvi una risata grazie da leandro conoscitore italiano per durate l'ora con cui realizzo questo video è un video breve per informarvi che domani mattina ripeto farò la canzone corretta i due video li ho cancellati grazie questo video anche verrà cancellato domani nella mattinata grazie ancora un saluto caro da leandro conoscitore italiano e buonanotte